Da un'idea di Giorgio Vago, con la collaborazione del coro Kai Bovisio Masciago e artisti vari, il sabato 6 aprile, ore 21, al teatro La Campanella sarete partecipi, della presentazione del libro Emozioni in Canto. Mettere su un foglio o su una tela le emozioni e le sensazioni suscitate da brani musicali eseguiti dal coro Kai Bovisio Masciago. Questa l'idea alla base del libro, un libro da leggere, guardare ed ascoltare, condividendo e confrontando sensazioni ed emozioni. Una singola fantasia, come poteva essere questo libro, adesso si trasforma totalmente in un milione di realtà. Grazie in anticipo a tutti. Vi aspettiamo. Grazie a tutti.